Explosiva Challenge 2021, un progetto che mira sulla competizione per far nascere e far sviluppare le start-up del territorio. Explosiva, che noi abbiamo chiamato Challenge delle idee vulcaniche, è un programma di animazione e valorizzazione di nuovi progetti impenditoriali in chiave innovativa e tecnologica. Un modo anche per rivitalizzare un po' il tessuto impenditoriale che esce sofferente da questo periodo di crisi sanitaria, di crisi economica. E quindi abbiamo pensato, grazie al supporto dei nostri partner tecnici, di proporre una competizione, una call for ideas, per i servizi innovativi, progetti in chiave tecnologica e digitale. Presentazione quindi è il 3 giugno. Cosa sarà questo evento? Il 3 giugno è il primo di una serie di eventi in occasione dei quali i nostri partner istituzionali e i nostri partner tecnici ci accompagneranno nella presentazione della call explosiva. Quindi il 3 giugno sarà un momento istituzionale. Qui faranno seguito una serie di workshop tecnici con i quali noi abbiamo pensato di accompagnare la costruzione dei progetti impenditoriali con una serie di stimoli e una serie di contenuti tecnici. Quindi saranno tenuti dai nostri partner con temi dalla costruzione del business model, business plan, aspetti digitali a favore delle imprese, l'importanza del marketing e della comunicazione, insomma una serie di stimoli anche dal punto di vista tecnico per la compilazione del progetto impenditoriale. La call vere propria invece sarà lanciata a settembre, quindi dal 14 settembre al 14 ottobre sarà possibile presentare il progetto che sarà valutato da una commissione composta appunto dai nostri partner istituzionali e tecnici. Selezioneremo 10 progetti che saranno presentati in occasione di un evento a fine ottobre e sarà premiato il miglior progetto con un carnet di servizi del valore di 40.000 euro. Tutti gli altri chiaramente saranno poi accompagnati nella definizione del loro, nella realizzazione del loro progetto impenditoriale, ma uno in particolare sarà premiato. Su quali progetti si mira? Noi abbiamo identificato come preferenziale dei progetti legati ai settori dell'artigianato, del turismo, della cultura, dell'enogastronomia, dell'economia del mare e l'economia circolare con particolare attenzione per quei progetti che utilizzeranno servizi, tecnologie legate all'intelligenza artificiale, internet delle cose, blockchain eccetera eccetera. Verranno valutati come prioritari progetti scalabili e progetti i cui componenti dei team dimostreranno competenze coerenti con il progetto presentato.